Roberto Giammarino ricomincia l'avventura del Pineto, si riparte in condizioni particolari dopo una lunghissima assenza dai campi che per quanto riguarda la Serie D è datata a marzo. Con quale umore, con quale prospettiva e anche come? Come lo sappiamo relativamente, ci stiamo attenendo ai protocolli che erano usciti da mesi, sono molto restrittivi, cercheremo di fare il possibile, noi ci stiamo mettendo tanto entusiasmo anche perché è giusto per gli sforzi della società ripartire con tutto l'entusiasmo che questa piazza vuole, con molta umiltà perché abbiamo fatto le cose in silenzio, ci siamo compattati con tutti i ragazzi, adesso dobbiamo semplicemente lavorare e sperare che questa piaga del Covid non si ripresenti in una maniera pesante, credo che bisogna andare avanti, la vita continua e queste cose bisogna affrontarle bisogna affrontarle in una maniera giusta, con serietà e con oculatezza, cercando di fare le cose fatte bene e sperando che questa situazione vada a morire. I gironi si conosceranno nella prima settimana di settembre probabilmente, però è possibile già sapere quelli che sono gli obiettivi del Pineto? Noi come ogni anno abbiamo fatto e continueremo a creare una squadra competitiva per ben figurare come abbiamo fatto gli altri anni, si spera sempre nell'annata buona, noi ci mettiamo sempre l'entusiasmo e la volontà e anche le nostre capacità, poi il campo è sempre quello che decreta se hai fatto bene o male, noi pensiamo di aver allestito una squadra buona, equilibrata tra giovani e vecchi e quindi speriamo di avere un po' di fortuna, un pizzico di fortuna che in questi casi non guasta mai. Sì, avete portato a Pineto gente come Paoli, come Palumbo, come Salvatori, giocatori importanti, anche conferme importanti, ad esempio Tomassini, c'è un mercato ancora da completare, a che punto siete? Noi in questo organico dovremmo inserire un altro paio di elementi, è chiaro che insieme al mister stiamo valutando dove dover mettere questi due elementi, la società ci ha dato piena disponibilità per fare un altro paio di operazioni, ne siamo in considerazione che gli over sono 9, compreso i 2,97, diciamo che è un organico abbastanza ristretto, cercheremo di completarlo aspettando anche il mercato dei professionisti o se capitano delle situazioni di opportunità di qualche giocatore, di qualche ragazzo nei dintorni, abruzzese, meglio ancora, vedremo, noi siamo alla finestra aspettando anche di vedere dove mettere questi ragazzi. Pochi dubbi sul fatto di ripartire da Maulo con cui era stato riallacciato il rapporto con l'anno nuovo, voi c'è stata un'interruzione con il lockdown, pochi dubbi sulla guida tecnica? No, la guida tecnica, già il presidente si era espresso, c'è piena fiducia in Daniela Maulo, è un allenatore che soddisfa la piazza, soddisfa il presidente, quindi è stato il primo tassello che abbiamo rimesso quest'anno in questo Pineto. Ovviamente non si conosce il girone ma a livello di rappresentanza abruzzese sarà una rappresentanza quasi terramana, con Castelnuovo, Giulianova, Notaresco, il Pineto, c'è la sola vastese nella provincia di Chieti, quindi questo ritarà un po' l'essenza del derby in questo girone? Ma sicuramente sì, è chiaro che 4-4 terramane credo che negli ultimi anni non c'era mai stato. Diciamo che siamo contenti perché il Castelnuovo sarà la prima esperienza, vedo che stanno facendo un lavoro come si deve, hanno messo un mix di giovani e di persone esperte, speriamo che ci sia sempre la massima sportività, specialmente tra noi il Notaresco, come sempre con il Giulianova, noi siamo sempre quelli che porgono l'altra guancia, quindi diciamo che siamo felici di avere 4 terramane, ci saranno 3 derby e quindi sarà bello e avvincente. Grazie.